Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come nascondere le chat archiviate in Telegram. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come nascondere le chat archiviate in Telegram. Ora nascondiamo le chat archiviate in Telegram e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Telegram, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione Telegram, come puoi vedere, ti indirizza qui. Quindi ora qui quello che farei è che, come puoi vedere le chat archiviate qui ora per nasconderle, ti mostrerò come farlo e quello che farei è semplicemente premere a lungo quella chat archiviata. E questo apparirà ora, basta toccarlo per nascondere le chat archiviate. Come potete vedere ragazzi, abbiamo finito di nascondere le chat archiviate e questo è il modo per nascondere le chat archiviate. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.